Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino Game, questa è la puntata numero millemila delle fritte da Marco Abbiamo sbomballato con i numeri Esatto, abbiamo perso dopo circa tre annetti di questo bel esperimento Allora, la puntata di oggi si chiama Game Oggi parleremo di migranti Il titolo della trasmissione non è un gioco di parole Ma è ripreso da una cosa molto dolorosa da un punto di vista pratico Viene chiamato Game Questo tentativo dei migranti sulla rotta balcanica Che spiegheremo adesso che cos'è Di arrivare in Italia Di arrivare quantomeno da questa parte dell'Europa Se così possiamo definire E che sono perseguiti con cani, droni Li riacchiappano e li riportano indietro Per questo appunto hanno fatto questa citazione Che è un riferimento a un film Di alcuni anni fa In cui c'era questo gioco Si cercava di sopravvivere in questo gioco Allora, cominciamo subito con una notizia geografica Marco Parliamo della Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina per collocarla È dall'altra parte dell'Adriatico Rispetto a noi È una delle Di quello che era prima la Jugoslavia E non è nell'Unione Europea La Bosnia ha domandato L'adesione all'Unione Europea Però non è ancora un paese membro Quindi come succede La Bosnia-Herzegovina È una piccola Turchia L'Unione Europea Le dà del denaro Per organizzare Costruire Dei centri di internamento Per rifugiati E non farli arrivare in Europa La fortezza è Europa La Bosnia Si trova sulla rotta balcanica Che è una rotta di migrazioni importanti Noi in Italia la conosciamo di meno Perché siamo legati al flusso Della rotta del Mediterraneo Nella rotta balcanica Dove soprattutto c'è gente Che viene dal Pakistan Dall'Afghanistan Dall'Asia diciamo Non dall'Africa Anche se c'è una parte Di migranti africani Che preferiscono Tentare questo giro Piuttosto che attraversare il deserto E poi finire in Libia Con tutto quello Che è legato All'esperienza della Libia Per far darvi dei numeri Dal 2018 Sono stati stimati In 65.000 I transiti Sulla rotta balcanica Nell'ultimo anno Nel 2020 16.000 E di questi 16.000 Oltre 10.000 Sono stati bloccati Respinti Dalla Croazia Dalla Slovenia E una piccola parte Che riesce a passare Dall'Italia E poi verremo Anche alla situazione italiana In questo modello Al solito Non mancano I problemi di corruzione Quanto erano 89 milioni Di euro Per costruire Delle tendopoli Insomma qualcosa Che serva Per alloggiare Questi migranti E di queste strutture Praticamente Non se ne ha notizia E quindi Ancora una volta Il modello Turchia Fa scuola Da questo Da questo punto di vista E allora Questi migranti Marco Chi riesce a passare Si trova Trieste Fondamentalmente Gorizia Al bordo E abbiamo scoperto Che Lo scorso luglio È stata varata Tutta così Un po' in segretezza È scritto su Diverse pubblicazioni Tipo Altre Economie Che questa circolare Fatta tutta in segreto Che ha dato la possibilità Alla polizia di frontiera E il personale di frontiera Di respingere Senza troppi Diciamo Senza troppi complimenti Buona parte Anche di chi Potrebbe Fare una richiesta Di asilo Ci sono due cose In tanti numeri I respingimenti Nel 2019 Erano stati 237 Nel 2020 Sono 1240 Quindi aumentati Notevolmente E L'altra cosa Interessante È L'ambiguità L'ironia Macabra Del linguaggio Come Ricordate Questa è una cosa vecchia No? Le guerre umanitarie Adesso Il respingimento Nella frontiera Tra Trieste Gorizia Si chiama Riammissione Il procedimento È il procedimento Di riammissione Con il quale La polizia italiana Non fa entrare Queste persone In Italia E li concede Oh grazie Di riammetterli Nel paese Dal quale Erano passati E cercavano Di arrivare Qui Questo macabro Stratagemma Amministrativo Perché Come tu dicevi Come funziona Funziona Che Non si ufficializza Un respingimento Quindi Si impedisce Anche Si toglie Anche La possibilità Di ricorrere Contro il respingimento Soprattutto Nei casi In cui Ci potrebbe Essere La possibilità Di chiedere Un diritto D'asilo Questa procedura È stata Condannata Il tribunale Italiano Il tribunale Romano O per La sezione Diritti delle persone E migrazioni Ha condannato Questa Procedura Che Tanto Per chiarirci È una procedura Preparata Dal governo Conte 2 Quindi Non è solo Salvini Una iena Rispetto ai migranti Da questo punto Di vista Non è che Con la Lamorgese La ministra Degli interni Del conte 2 Le cose Siano diventate Rose e fiori Anzi Quindi L'Italia Si trova In questo momento Anche con una Condanna Da parte Di un tribunale Per questi Respingimenti Illegali Che fa un po' Da pandan Abbiamo detto Prima I finanziamenti Europei Doveva Finire i soldi Parallelamente Parallelamente Sempre Su quest'area Queste rotte Quelle della Grecia In particolare Del mare Egeo Frontex Che è La struttura Dell'Unione Europea Per gestire I flussi Migratori È sotto Accusa È sotto Processo Con la Accusa Di aver Favorito Dei respingimenti Illegali Nel mare Egeo Cioè Le navi Della Frontex Avrebbero Bloccato Dei tentativi Di passaggio Ridando Questi migranti Alla Guardia costiera Turca Quella Che paghiamo Profumatamente Per impedirli Di arrivare In Europa Di arrivare Nel caso Specifico In una Delle isole Greche E quindi Poter chiedere Poi Aprire la procedura Per chiedere La missione In Grecia Eh sì La situazione La situazione È drammatica E Marco Credo che possiamo Possiamo fondamentalmente Chiudere qui Questa puntata Per niente Gioiosa Ma Che abbiamo Deciso di fare Perché Come al solito Di queste informazioni Arriva poco e niente Sulla grande stampa E specialmente Quella italiana In questo momento In altre faccende Affacendata Su questioni Governative E il resto E diciamo Chiudiamo così Il 27 gennaio Ricordiamo ogni anno Il giorno della memoria Il giorno in cui Il campo di concentramento Nazista Di Auschwitz Venne liberato Tra virgolette Venne scoperto Poi Delle truppe Dell'armata rossa E quindi Pensiamo Allo sterminio Pensiamo A questa violenza E invece Molti di noi Fanno finta Di non vedere Tragedie Di altro tipo Spinte da altri Da altre ragioni Ma che allo stesso tempo Coinvolgono la vita Di milioni di persone Che ci rimettono la pelle Così possiamo dire Senza mezzi termini Sia sulla rotta balcanica Che sulle altre rotte Di migrazione Senza che I governi E la maggior parte Delle persone Facciano nulla Per intervenire Sì esatto E le foto Alcune foto Che sono Girate Su questa situazione Nella Bosnia Sono emblematiche Noi diciamo Mai più Quando pensiamo Ad Auschwitz E poi abbiamo Queste foto Di file Di poveracci Di bambini Senza scarpe Nella neve E senza un posto Dove stare Noi vi ringraziamo Per ascoltato Questo video Vi chiediamo Di girarlo Ai vostri contatti Salutiamo A chi ci ascolta Lunedì pomeriggio Su Radio Mir E vediamo appuntamento Alla prossima settimana A presto Ciao ciao